Eccoci qua, garage 360 Una nuova puntata, siamo qui per voi Per fare un po' di attività E questa è una nuova puntata di garage 360 Dobbiamo bere le bottigliette d'acqua di un litro e mezzo Un pochettino Una vostra comfort zone di casa Prepariamoci a fare un po' di riscaldamento Poi attunificare un po' il corpo dalla parte bassa alla parte alta Iniziamo Siamo 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 8, 8, 9, 10 5, 4, 3, 2, 1 Step touch e 5, 6, 7, ginocchia al petto, 8, 7, 6, 5, 4, 2, giù, 4, punta, 4, 3, 2, e piego dietro, 4, 3, 2, su, 4, 3, 2, vai, 4, 3, 2, su, 4, 1, su, 4, 1, su, 4, 1, su, 2, Su, su, punta, punta, piego, piego, chiudo, su, ancora L'ultima volta Punta, punta, piego, piego, chiudo, su, stiamo giù 8, 7, 6, 5, 4, 3, ugnino avanti, destra 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, giù 4, giù Su, 4, 2, giù 2, giù Stiamo qua Stiamo, 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 stiamo Punta, tallone, lato destro Punta, tallone Punta, tallone Punta, tallone Stiamo Stiamo Gambe parallele, appoggio sopra l'articolazione Punta Bene, la schiena dritta Stiamo in posizione Ok, scendiamo giù Facciamo un minimo di stretching Tiriamo un po' queste gambe Appoggiamo il ginocchio a terra Wow Io qua un po' di cemento Fa un po' male Cambio Dall'altra parte Mi raccordo Ginocchio, tallone in linea Giù bene Su Dall'altra parte, come prima Gambe parallele Appoggio sopra l'articolazione Prendo la punta Schiena dritta Ok, giro E siamo qua Wow Bene Iniziamo a fare delle piccole Esecuzioni, esercizi Con le bottiglie Una già caduta E la raccogliamo Un litro e mezzo E più vale a un chilo e mezzo Ragazzi a casa Prepariamoci a fare un po' di Picipiti Ok Stiamo sul posto Le gambe sono un po' divaricate Appena oltre le vostre anche Le punte guardano verso l'esterno Solo i picipiti Contemporaneamente Passiamo 3 serie da 8 A tempo 5 6 5 6 7 And 1 2 3 4 5 6 7 8 Ancora 2 serie 2 3 4 5 6 6 7 Un'altra serie così 8 7 6 5 4 3 2 Stiamo su Attenzione qua 2 3 4 5 6 7 Ancora 8 7 6 5 4 3 2 Ancora 8 così 8 7 6 5 4 3 2 Torno piano 1 2 3 4 5 6 7 7 Ancora 8 8 7 6 5 4 3 2 L'ultima serie 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 15 16 16 16 11 12 16 20 20 20 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 28 29 30 30 30 31 31 32 32 31 32 32 3, 2, 1, 6, 3, 2, 2, 2, scendo, 2 salgo, 2 scendo, 2 salgo, 1 stop, 1 stop, 1 stop, salgo, salgo, 1 stop, salgo, salgo, 1 stop. Salgo, salgo, uno stop, salgo, salgo, andiamo in wide, apro un po', sposto il tallone e poi la punta, andiamo a portare il pin sul tallone, uguale a prima, pronti? 5, 6, 7, 4, 3, 2, e salgo, 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 ancora, piano, 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 salgo, salgo, 3, 1, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su, 3, 2, 2, 2, 1, su, 3, 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 2 Salgo Apro di più Peso sui talloni Aldo medagli e contratti Attenzione a scendere bene Ma mai oltre il gluteo Di nuovo più gluteo in linea 5, 6, 7, piano 4, 3, 2 E salgo Salgo, salgo Scendo piano Salgo piano 3, 1 3, 2, 1 Su 3, 2, 1 Su 3, 2, 1 L'ultima 3, 2, 2 Scendo 2 Salgo 2 Scendo 2 Salgo 2 Scendo 2 Salgo 2 Scendo 2 1, stop Scendo e stop Salgo Salgo 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 Ok, da questa posizione Facciamo una serie da 8 Con 3 molleggi Scendo e molleggiamo 3 volte Pronti? 5, 6, 5, 6, 7, and 1 Su, 2, 1 Su, 2, 1 Su, 4 Su, 5 Su, 6 Su, 7 Su, 8 Stiamo qua 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 Fermi 8 7 6 5 4 Dai 3 2 Su piano Ok, provando le gambe, mettiamo giù le bottiglie, ok, ora facciamo una piccola sequenza e colleghiamo da fondo frontale, ok, andiamo a destra e poi a sinistra, riportiamo davvero davanti lo step, quindi uno spazio di un metro, scendiamo in squat, teniamo il tempo, scendiamo in squat, teniamo il tempo, che diventa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, quindi veniamo in l'ottava di tempo, stando fermi qua, movendo le gambe, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La gamba esterna è quella che torna prima, eh? Pam, torna, e pam, torna, e pam, torna, pam, torna, pam, torna, pam, torna, pam, torna, pam, torna, ok, ancora, pam, e, l'ho avanti e torniamo, giù, su, è un basic step, e poi giù, torna, basic step, 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 giù, continuo, hop, eh, così, hop, hop, Ancora così, dai, attenzione, mettiamo il affondo al posto del bel di step, ora, 5, 6, 7, 8, hop, 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 2, and hop, hop, gozi, hop, 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 Yeah, ginocchio, talone linea quando scendo, attenzione, eh, così, sollevo il talone dietro, dai, hop, ancora, giù, su, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Ancora, l'ultima, qua, stiamo, e marcia, come va? C'è un po' caldino adesso, eh, lo so, anche noi qua, Allora, adesso, singolo, 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 tollevo, finito, e, pam, su, 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 Ha, 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 ha ancora, ancora, ora datemi tre ripetizioni a destra, tre, one, two, three, sinistra anche, ancora, 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 prima, Renaissance, Rani, 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 Rani. l'ultima volta, destra, sinistra, ok, marcia, come va, ripetiamo il primo blocco, uno, pam pam, giù, bene, ok, fai, otto tempi, vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e qua, tre, e tre, ancora, tre volte, così, dai, ancora due volte, forza, destra, sinistra, l'ultima, destra, sinistra, da capo, quattro, quattro, tre, due, uno, ripetizioni, quattro volte, quattro, tre, due, uno, ancora, quattro volte nel capo, quattro, tre, due, uno, quattro volte, qua, tre, due, due, uno, solo due volte, due volte, due, uno, ripetizioni, due volte, qua, due, scola, dai, giù, su, ancora due, qua, dai, giù, ora, ripetizioni, quattro, l'ultima volta, tutto da capo, dai, giù, due, 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 e qua, tre, qua, ok, qua, uno, due, tre, su, uno, due, tre, su, uno, due, su, uno, due, ok, attenzione, questo esercizio possiamo farlo con le bottiglie, quindi, andiamo in avanti, gamba destra, appoggio, ginocchio, tallone in linea, gamba dietro, solleviamo il tallone, e queste lunghi fianchi, ok, pronti, fai, molleggio, tre, uno, due, tre, ritorno, uno, due, tre, ritorno, dai, e cambio gamba, e su, dai, ancora, dai, ancora quattro volte, dai, su, ancora tre volte, su, dai, 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 su, due volte, scendo bene, ancora una, teniamo una bottiglia sola, ora lo facciamo bloccandoci in questi tre tempi, in questi tre tempi, passiamo la bottiglia sotto, pronti? 5, 6, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 1, passo, passo, salto, giù, passo sotto, apro e ritorno, giù, passo, e su, giù, passo, apro, su, giù, passo, passo, apro, su, giù, 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 passo, apro, ancora musica! Siamo alla fine L'ultimo pezzettino Fatemi un regalo Lo so che sono in più Wow Bra Siamo Le gambe sono belle calde E quindi Bisogna fare una cosa un po' diversa Mettete comunque Una bottiglia piccola Se l'avete Oppure In un punto solo Spattate dalla parte all'altra Della bottiglia E poi E poi Piegamento Attenzione Salto Scendo Push up Torno Salto Giù Push up e in un centro showingata m中 giù pedo di giù in un centro di isteguo In un centro si salto Ok! Ok! Ancora uno! Il telefono si stacca, basta da voi, bravi, questo per arrivare al punto, fare un po' di addominali, ci siamo, buttate il tappetino, la bottiglia e mentre vi rilassate facciamo un po' di addominali, quindi partiamo con i rassian, quelle che piacciono a tutti, pronti? Partiamo da destra, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora! Ancora 8, vai così, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, scarico la schiena! Che musichetta ragazzi, sembra di essere in un altro paese, in effetti sto trasmettendo da Santo Domingo, magari, pronti? Passiamo un po' di allungamenti, ritorno, le gambe verso il petto, lungo le gambe, ritorno, campone nell'equilibrio dietro, addominali contratti, fatto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rapido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ehi! Ok, scarico la schiena, vado un po' in avanti, wow! Ok, facciamo un po' di crunch e poi usiamo ancora la bottiglia per fare alcuni esercizi di addominali, e attenzione! Crancia, tre cose fondamentali, gomiti aperti, lo sguardo fisso al soffitto e il mento lontano dallo sterno, pronti? Vieni a terra, tre tempi da 8, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, ancora 8 tempi, su, 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 così, ancora, ok, relax! Parapà, parapà! Usiamo sempre la bottiglia, che ho detto prima, e impugniamo, e in 4 tempi, esercizio, scendo dietro, ritorno, ritorno, e sollevo verso l'alto, ok, le gambe sono piegate in questo modo, la schiena a terra, preparatevi, 8 ripetizioni, 4 tempi, eh! 1, 2, al 3, sollevo, ritorno, mantengo le spade sollevate, le finali contratti, ci siamo? Preparatevi, preparatevi, 5, 6, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and hop! 1, 2, 3, and 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 1, 2, Attenzione Gambe un po' di varicate Quattro tempi qua Tocco Due Tre E stendo Ok Lo facciamo molte volte Ripetiamo in modo veloce A tempo Five Six Ten Ancora quattro volte Ok Ok Relax Gambe su Tento di toccare con il palmo della mano La scarpa esterna Ok Quindi Braccio opposto da gamba Tocco Tocco Ok Quando tocco entrambi Vale uno Quindi è Uno Due Iniziamo con la prima ripetazione da otto tempi Five Six Five Seven One Two Three Four Five Six Seven Ancora Una Due Tre Quattro Cinco Sei Sette Ancora otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Due Uno Relax Wow Ok Facciamo un po' di Beauty Pronti Pronti Un po' di slanci E poi manteniamo su La gamba Il ginocchio Il testa Gluteo Quindi lo slancio E uno Sino otto tempi Sono serie da otto Da quattro Da due Arriviamo al punto che il ginocchio in linea col tallone Ginocchio tallone E ginocchio gluteo Un bel angolo E spingo verso l'alto Quando spingo due volte vale un tempo Uno Due Ok Ci siamo? Pronti? Preparateli bene a casa Five Six Five Six Seven And One Two Three Four Five Six Seven Eight Sulla spinta Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Torno a quattro 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 Tre Due Uno Stiamo su quattro Quattro Tre Due Uno Torno a quattro Quattro slanci Tre Due Stiamo su quattro Spingo 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 Torno a due Torno a due Lancio 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 Su PAM PAM Torno a due Su Lancio a due Quattro 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 Come vai Mi L'ultima Su 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 Ok Stop Pronti Ti vedo da casa Forza Carmelo Dai Sonia Forza Elena Vamo Vamo Two Three Four Five Six Seven Eight Stiamo su Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Torni a quattro Dai Tatiana Tre Due Uno Su Yolanda Quattro Tre Due Uno Torni a quattro Sette Tre Sue Stiamo su Vai Tre Due Uno Torno Due Stiamo su Due Ancora Slancio Slancio Stiamo su Torno Dai Stiamo alla fine Forza Ancora una volta Ok Stop Relax Allungo bene State qua Stiamo in allungo così Posizione Cambio musica Perché facciamo qualche minuto di stretching Con la musica giusta Stiamo qua In allungo Respirate Braccio Un braccio Passa sotto Mantengo la fronte sul tappetino Rilassiamo la spalla Continua a respirare Entrambe le braccia In avanti Stiamo giù ancora Quattro secondi Piego l'altro braccio Sotto Mantengo sempre la fronte sul tappetino E rilassiamo l'altra spalla Respiriamo Attimo dopo attimo Rilassiamo La spalla Usando anche il respiro Inspiro E butto fuori l'aria Respirazione profonda e lunga Torniamo con le braccia in avanti Stiamo giù ancora Qualche secondo Ok Andiamo a strecciare i glutei Che abbiamo appena lavorato Quindi Schiena a terra Allungo braccia e gambe Sollevo una gamba La porta al petto Aiuto La gamba Portarla al petto Sotto l'articolazione Spingendola sotto l'articolazione del ginocchio L'altra rimane a terra Stiamo in posizione Rilasciate la gamba Che si appoggia col tallone a terra La gamba rimane piegata Sollevo l'altra gamba E la porto al petto Appoggio A questo punto la gamba sull'altra Apro il ginocchio Sollevo Braccio interno Braccio esterno Prendo e tiro Iniziamo a strecciare il primo gluteo Rilascio Cade la gamba Mantengo l'altra ancora su Quindi ora L'altra gamba Che è piegata Col ginocchio In alto E l'altra gamba Che era a terra Abbiamo cambiato le gambe Giusto ragazzi? Ora appoggio questa gamba Poi il tallone a terra E rimane piegata L'altra la sollevo La piego Stiamo qua Qualche secondo Piego la gamba Sull'altra Apro il ginocchio Sollevo Braccio interno Braccio esterno Prendo e tiro E strecciamo Il gluteo Di questa gamba Ok? Iniziamo ad agire Sul piriforme Adesso scendono Entranno le gambe Piego sul lato Appoggio E vengo Sì Adesso Una gamba Rimane a terra L'altra piegata Inspiro Espirando Scendo Sulla della gambe Sulla gamba Che rimane a terra Ricordatevi il ginocchio Che rimane a terra Ok? E la punta E le piede Guardate il soffitto Sempre Entrambe le braccia In avanti Inspirando Ritorno Apro Chiudo l'altra gamba Mi dirigo Verso la gamba Che a terra Inspiro Espirando Scendo Vi ricordo Il ginocchio A terra La punta Guarda il soffitto L'altra gamba È piegata Tentiamo di averla Completamente a terra Se riusciamo No, non è un problema L'importante È avere entrambe Le braccia in avanti E mantenere la posizione Respiriamo Inspiro Ritorno Apro Sposto Il bacino Verso una delle due gambe Sollevandolo Inspiro Espirando Scendo Ancora Inspirando Ritorno L'altra parte Sollevo Inspiro Espirando Scendo Inspirando Ritorno Ok Vado in avanti Piano Lentamente Arrivo fino al punto In cui sento Tirare Tirare Non vuol dire Fare male Ok Questa parte qua Che riguarda Gli aduttori Che riguarda La parte Ma La catena Posteriore Quando sento Tirare lì Ti fermate Ok Piano Mi ricordo Mi ricordo sempre Le ginocchia a terra Ritorniamo lentamente Sposto Così indietro Sollevo Chiudo Avvicino Il bacino E i talloni Sollevandolo Prendo Prendo le punte Le ginocchia Spingo Le ginocchia Verso terra Quindi Prendo le punte Caviglie Inspiro Quando butto fuori l'aria Spingo le ginocchia Verso terra Ok Quindi è come se Prendessimo le ginocchia E le Prendo a terra Solo con una spinta Che manteniamo Continuando A respirare Inspiro Espirando Spingo Mantengo la spinta E continuo a respirare Apro bene le spalle Qualche secondo Rilascio Inspiro Espirando Spingo Spingo Scendo giù Un attimo Torno su Spalle Braccia Testa In avanti Salgo lentamente L'ultima cosa Che sarà la testa Inspiro Fuori l'aria Terminiamo qua La lezione di Garage V360 E vi aspetto Per la prossima puntata Io a tua casa E tu By Ivan The Terrible